Cosa c'è di strano da guardare tanto? Forse perché noi non siamo vestiti bene, fettinati come voi, beh se non vi piace così come siamo, non direttacchie, voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli fa, ognuno è libero di fare quello che gli va, tanto più che noi non cerchiamo nessuno. Non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi, e quel che fa la gente ci interessa poco. Se anche un andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va, Ognuno è libero di fare quello che gli va, invece tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, fettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno si è messo in testa, che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui. Ma ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va.